Aiaiai, 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 è mercoledì e il calendario purtroppo mi dice che oggi non sono da solo ma con... Ciao Michele, come stai, tutto bene? Sputi la gomma, in tv non si sta con la gomma da masticare. Vuole tagliare la tua mano? No secco, se la tenga, se la tenga. Quanto è contento di vedermi da una a dieci? Guardi veramente, quanto è contento? Eh dieci, dieci. Io devo dire una cosa, che oggi con questa magliettina è addirittura più bello di Marco Carta. Ma che cos'è ora? Marco Carta è un metro di paragone, è un'unità di misura. Per tutte le smacarendas. Ma che cos'è? Allora, cominciamo a leggere le letterine. Leggiamo, leggiamo. Guardi questa, guardi, questa è una cartolina che è scritta sul retro di un pupazzetto. Guardi quante carina. E rega la seguente scritta. Cari gioiemi, sono Francesco, un bimbo di 5 anni, vi seguo sempre, siete i miei preferiti. Fate riprendere Martin Mister senza togliere Team Galaxy. Francesco, cercheremo di accontentarti ancora di più perché guardi qui, signora Sabrina, che cosa c'è. Per tutta la smacarendas, ma è bellissima, veramente, guardi. Ora io prenderò questo fantastico lavoretto, lo piegherò in tre e lo farò diventare un totem per il nostro plastico. Michele, lei è veramente delle idee geniali, veramente, complimenti. Ora non si attacca. Sto per rompere, oh, veramente, bravo, altro che quella mani rotola di Geo, lei è un bravo conduttore. Moderi, Moderi, chi è? Aggora, non solo ti ho scusa a chiave, oggi ti ho messo anche le sbarre di ferro, quindi non può proprio uscire. Guardi che so che è Geo in possesso di un manuale di evasione. Cioè potrebbe uscire? Potrebbe uscire. Se vieni qui non voglio essere nei suoi panni. Legga. Non credo proprio perché ho messo una guardia fuori, un cane rabbioso, quindi non può proprio uscire. Allora, volevo far vedere questo bellissimo disegno di Tommy che ha sette anni. Guarda, e fa praticamente un bellissimo disegno di Coccobil, ci ha scritto la lettera al suo papà perché, insomma, Tommy è piccolino e ci chiede di far vedere questo bellissimo disegno. Come si stile Tommy? Tommy, con l'H, naturalmente. Che H? Tra la O e la M. Tommy. Io che sono, Michele l'ha imparato il mio nome? Sì, Sabrina, con l'H, tra la B e la R. Bra. Ma, mica la mia emozione, se fa così, veramente? Ecco, vada nella stanza delle emozioni, che si emoziona così bene. Mi chiamo Francesco, ho cinque anni e mezzo e questa è la prima volta che vi scrivo una lettera. Vedi, tu hai anche fortunato, Francesco. Ho una sorellina di nome Chiara, che è un po' capricciosa e vuole tutti i miei giochi. Beh, Francesco, porta pazienza e sembra che tu sia un po' più grandicello, quindi fai il mestiere del fratello maggiore e abbi pazienza. Mi piace moltissimo il vostro programma e vi seguo tutti i giorni. Il cartone che mi piace di più è Eppur si muove. Michele, sei molto bravo e simpatico. Geo, invece, tu sei capricciosa come mia sorella. Esatto. L'ho sempre detto che è Geo, veramente simpatica. Vi saluto e vi baci. Geo, è inutile che bussi, c'è il cane rabbioso fuori. Quindi non puoi uscire. Francesco ci saluta e ci bacia e ci chiede se possiamo attaccare il muro al suo disegno. Prima di attaccarlo, però, lo facciamo vedere. Questi siamo io e Geo. Sì. A pausa posta. L'hanno ne rotto la bionda. È un bellissimo disegno, Francesco, vado a metterlo subito sul nostro muro. Continua a scriverci. Naturalmente, mandati i disegni della vostra migliore amica Sabrina con la canna. Li aspettiamo. Ciao, Regul, mi chiamo Teziano, 8 anni, abito a Ferrandina, provincia di Matera. Siete molto simpatici, di voi due mi piace di più Geo. Sei sicuro? Capita, capita. È proprio sicuro. Capita. Sei bellissima e simpatica, Geo. Michi, non mangiare troppi panini che fanno male e non fare disperare Geo. Ma anche se mangia i panini tanto, Michele rimane comunque un bel figurino. I miei cartoni preferiti sono Martin Misteri e Pursi Muove. Sarei felicissima se leggete la mia lettorina in trasmissione e vi mando un bacio a un abbraccio. Certo, l'abbiamo fatto e faccio vedere anche il tuo disegno perché te le smacca retta. E cos'è delle macca retta? Che cos'è questo intercalante? Applausi, applausi perché ci piacciono. Fantastico disegno. Ma andiamo avanti. Cari Geo e Michi, mi chiamo Loredana, vivo in Germania, pensi un po' in Germania. È pazzesco, chissà se lì ce l'hanno Marco Carpa. Ce l'avranno. Marco Carpa. Ah, così si dice? Ho cercato di fare il tedesco, ma è uscito uno spagnolo maccheronico. Ho 12 anni e vi guardo tutti i giorni. I cartoni preferiti di Loredana sono Martin Misteri, Turipano Nero, Pitt e Cantrop, Jumanji. Geo e Michi, siete due persone simpate. Salutatemi Pinuzza e Pinuzza, Sabrina e Sabrina. Quindi c'è anche un saluto per lei. Dalla Germania. Cioè scusi, mi stanno salutando? Esatto, la stanno salutando dalla Germania. Ah, pazzesco? Ecco, guardi qui. Guardi, sta diventando rossa con i capelli. Eh sì, ci mancherebbe solo quello. Poi, mi crede Panini e Giorgia, principessa dei Mimi. Guardi qui che bellezza. Lei veramente carino con questi pantaloni un po' rapper. Io lo devo dire. Anche se il panino fosforescente mi sa un po' di indigesto. Allora, la puntata di oggi è finita. Sì, purtroppo. Più da lei con una sua massima a cui tiene. Sabrina Collacca è la vostra migliore amica. Scrivetemi ciao. Che non chieda le perline, è una massima. Come so, il cielo è blu.